Il percorso si era ingiustamente interrotto, oggi si riprende questo cammino, si riannodano i fili che si sono stati strappati, quindi sono contento, soddisfatto, ci tengo a questa azienda e serviva anche garantire un elemento di continuità visto anche il radicale cambiamento che c'è stato nella governance. Francesco Macri torna alla guida di Estra, lo ha deciso l'Assemblea dei Socii di cui fa parte anche la retina Congas. Si può e si deve riaffermare un principio di legalità anche in termini di democrazia perché io sono espressione comunque di realtà amministrative che hanno vinto le elezioni, che hanno il diritto di nominare i propri manager, i propri rappresentanti nelle aziende partecipate. Macri torna dunque alla presidenza dopo la bufera giudiziaria sulla sua nomina che lo aveva travolto. Era stato assolto con formula piena lo scorso febbraio, nel frattempo è diventato anche consigliere di amministrazione di Leonardo. Spirito di rivalza o di rivincita verso alcuno, anche perché non immagino nessuno verso cui dovrei avere rivalza. So che chi fa purtroppo il mio lavoro in un contesto come il nostro, quello italiano, fa un lavoro difficile che a volte può inciampare, cadere, c'è qualcuno che cerca di farlo inciampare e così su questo succede. È una cosa profondamente ingiusta, quindi metto da parte, come faccio sempre, i motivi di sofferenza o le delusioni e guardo sempre obiettivi futuri. Il pratese Nicola Ciolini sarà l'amministratore delegato, mentre vice sarà Alessandro Fabbrini, già al vertice di Sei Toscana. Nel CDA sono state poi nominate come consigliere Dario Orlandi e l'avvocato Maria Cristina Rossi, in rappresentanza di Ancona. A questo si aggiunge un collegio che in larga misura è rappresentato e rivede il ritorno di un'altra figura retina, dell'ex presidente del collegio, dottorato Svestrini. Quindi Arezzo avrà una squadra estremamente robusta e forte. L'Assemblea dei Soci della Multi Utility Toscana ha anche approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile, a fronte di un utile netto di circa 23 milioni di euro, l'Assemblea ha deliberato di distribuire agli azionisti dividendi per oltre 11 milioni. Un bilancio che vede un rilevante aumento dei ricavi dovuto essenzialmente all'aumento dei costi del gas, quindi più costa il gas più poi c'è il ritorno economico in termini di ricavi, vede anche una compressione degli utili per le ragioni a cui accennavo prima. Quindi ci aspetta un lavoro estremamente faticoso di rilancio e consolidamento. Grazie.